Un pastore deve essere appassionato, deve saper discernere, ma deve anche saper denunciare il male. Lo ha detto Papa Francesco nella messa del mattino a casa Santa Marta, prendendo spunto dalla prima lettura e dalle parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Non si può essere un vero pastore senza lo zelo apostolico, senza questo fuoco dentro, ha spiegato il pontefice, ma il pastore, come fa Paolo con i Corinzi, deve anche saper discernere dove ci sono i pericoli e dove c'è invece la vera strada per le sue pecore. E infine deve saper denunciare il male con nome e cognome, i judaizzanti, gli idolatri e i mercenari. E qui Papa Francesco ha ricordato il parroco di Barbiana, Don Milani, sulla cui tomba ha pregato Martedì, che denunciava quello che andava contro la vita dei ragazzi della sua scuola. Non dobbiamo perdere, ha detto, la capacità di condanna per il buonismo dei compromessi, per attirarci l'ammirazione dei fedeli, lasciando fare. I care. Ma cosa significa? Mi hanno spiegato, no, con questo lui voleva dire mi importa. Insegnava che le cose si dovevano prendere sul serio, contro il moto di moda in quel tempo che non mi importa. Ma ha detto in un altro linguaggio che io non non so dirlo qui. E così insegnava ai ragazzi andare avanti. Prende cura, prendete cura della la tua vita. E questo no.